John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in 10 cose da cambiare nel calcio Ma che schifosa sarebbe questa? Faccio chiarezza perché è fondamentale, ne ho volute trovare 10 Però non è che proprio tutto bisogna cambiare nel calcio, cioè non è che mi fa schifo E penso che tutto sommato troverò anche un titolo abbastanza forte, tipo cose che mi fanno vomitare Però al di là di questo, non è che cambierei proprio tutto, altrimenti non lo seguirei Però comunque oggi vi voglio citare 10 cose che cambierei, nel calcio chiaramente Prima di iniziare però, anzitutto iscriviti al canale, l'obiettivo è sempre il solito, arrivare a mezzo milione di iscritti E questo numero non mi è sufficiente, solo grazie a te, e a te, e a te, e a te, e a altre 4.611 persone potremmo arrivarci E quindi iscrivetevi, ma al di là di questo gettiamoci all'interno di questo video Vi chiedo di farmi sapere qui sotto delle cose che invece farebbero vomitare voi Farebbero, fanno vomitare voi E che quindi cambiereste Parto io Il tempo effettivo Che poi, che è sto tempo effettivo? Partiamo da un presupposto importante Alla voce, quanto dura una partita di calcio? La risposta che viene in nostro soccorso è Una partita di calcio dura 90 minuti ed è divisa in due tempi di 45 ciascuno Così dicono loro Ma ne siamo veramente sicuri? Cioè, non so se voi seguite il calcio Penso di sì, altrimenti non starete Non stareste L'italiano è una lingua complessa Non stareste vedendo questo video Comunque, in realtà, quei 90 minuti è come se non esistessero Specialmente in Premier League, nell'ultimo periodo Hanno provato ad introdurre una sorta di tempo effettivo che non esiste Cioè, hanno fatto petizioni tipo Nella prossima Premier League il tempo perso per risultare si trasformerà in recupero E Guardiola si è anche lamentato come leggete qua contro i maxi recuperi dicendo Meglio se sto zitto E nonostante io reputi Guardiola un mio grande idolo Delle volte penso la stessa cosa Meglio se sta zitto Delle volte mi sembra si senta un santone Perché poi effettivamente il voler cercare di giocare più possibile una partita Non è proprio una cosa sbagliata E nonostante si dica insomma che le partite dovrebbero durare 90 minuti O almeno questo è quello che suggerisce tecnicamente il tabellino in alto a sinistra di solito nelle partite Effettivamente le statistiche dicono ben altro Infatti pare che in Serie A ad esempio prendendo come ipotesi un qualunque weekend Si siano giocati di media 52.93 minuti Cioè poco più del 50% E la cosa clamorosa è che in una partita genaudinese si è giocato 39,50 minuti Cioè ragazzi 39,50 minuti Cioè in sostanza nemmeno un tempo E a dirla tutta non è che negli altri campionati vada poi così meglio In Liga 53,29 di media In Ligan 58,20 In Bundesliga 57 In Premier League 55,3 Però la cosa fattuale è questa In Serie A si gioca poco Tempo effettivo più basso nei top 5 campionati E oggettivamente è una cosa che me preoccupa abbastanza Ve dico la verità Ma soprattutto perché non è giusto che io gioco un tot di tempo e tu ne giochi tutt'altro Ora il dato statistico che vi ho fatto vedere recitava che genaudinese si è giocato 39,50 minuti Mentre Lazio-Atalanta si è giocato 63,25 E ragazzi 63,25 meno 39,50 Vuol dire che in una partita di Serie A Anzi tra due partiti di Serie A ci sono stati 23 minuti E 75 che non esiste Di differenza Cioè per 25 minuti quasi mezz'ora si è giocato di più rispetto che in un altro campo Che ora finché i paragoni sono tra genaudinese che sono due squadre che si devono salvare E Lazio-Atalanta che sono due squadre che puntano alla Champions È anche accettabile Ma mettete conto che invece in una partita si era giocato quel minutaggio tra Lazio e Genoa E un'altra tra Atalanta e Udinese Cioè chi ha perso le due partite può aver da recriminare Perché magari la Lazio perde punti importanti perché il Genoa sta tutto il tempo per terra Il Genoa guadagna un punto importante Perché? Perché magari l'Atalanta prende a Randelli l'Udinese perché ha 60 minuti di tempo e non 39 Per questo io penso che la prima regola sia quella di andare a mettere il tempo effettivo Sì lo so, rischia di essere una follia Ne sono conscio Però ve posso dire una cosa Io penso che la verità E non metterei tipo tempo effettivo 60 minuti E riallaccio La verità è che si perde tempo proprio perché il tempo effettivo non esiste Se i giocatori sanno che tanto tutto si recupera, cioè che il tempo si ferma Manco hanno voglia di perdere tempo, di guadagnare minuti Che sono tutti trucchetti del calciatore Soprattutto dei difensori Quindi credo che già se voi andate a mettere il tempo effettivo In 90 minuti si arrivi a giocare almeno 78-79 minuti Come vedete Lazio e Atalanta alla fine se ne sono già di 63 Ed è una partita dove sono accettate le perdite di tempo Quindi credo fortemente che insomma la situazione non sia così impossibile Eh sì, però i giocatori sono stanchi Ebbene si potrebbe attuare questa cosa allungando la rosa Le varie rose Cioè se io invece di avere 23 calciatori in rosa E presentare le liste con quei calciatori Arrivassi ad averne 30 Innanzitutto abbasserei un pochino gli stipendi Perché non devo stipendiare 23 giocatori Devo stipendiare 30 E quindi abbasseremo anche queste cifre enormi Ma al di là delle cifre enormi Tu avresti anche la possibilità di dare spazio a più giocatori E adesso in Serie A ci stanno circa 400 calciatori Se ce ne fossero 30, se ce ne dovessero essere 30 per squadra Avremmo una media di 600 giocatori E quindi molti calciatori che non arrivano mai nei grandi campionati Ci arriverebbero Tu avresti una rosa molto più lunga E avresti possibilità di far rifiatare tanti altri calciatori Potremmo in questo modo combattere anche le tante partite La pausa delle nazionali Lo so, lo so Sto toccando una nota dolente Ma proprio dolente, eh Cioè sto toccando un tasto che penso faccia male al tatto Però A.O. Parlamose chiaro Arriva il momento nella vita di una persona Dove c'è bisogno di parlare di determinate cose E questa è una di quelle Prendiamo ad esempio questa stagione Se andiamo a vedere le soste delle nazionali Come vedete qua Le abbiamo avute il 10 settembre Due settimane di pausa Il 15 ottobre La stiamo avendo il 19 novembre E poi ne avremo un'altra il 24 marzo A parte che mi sembra che non abbia senso Il fatto di avere tre pause in tre mesi E poi non ne averne nessuna Praticamente in nove mesi Se non una Fino agli europei E mi sembra veramente una follia Perché ha studiata male Cioè perché se fosse studiata meglio Io capirei alcune cose, no? Cioè se ci fosse un motivo Per cui tu devi mettere delle pause In determinati momenti Io ti direi hai ragione Qual è il mio problema? Ieri un commento mi ha fatto molto riflettere Mi ha detto Tu rompi sempre il cazzo E in parte è vero Ha aggiunto Quando c'è la pausa Te lamenti perché bloccano il campionato Quando c'è il campionato Te lamenti perché bloccano le nazionali E io sono d'accordo Ma perché sono d'accordo? Perché la pausa delle nazionali Posta in questo modo qui È sempre un Fermarmi nel momento clou Cioè quando mi rendo conto Che il campionato Sta entrando nel vivo Ecco che come una spada di Damocle Arriva la pausa E quando mi sto affessionando all'Italia E voglio vedere come va a finire Questa maledetta qualificazione Ecco E me la interrompi per un mese Due mesi, tre mesi Perché ricomincia il campionato Ed è anche una cosa poco propedeutica Anche perché Guardate Spalletti Non c'ha tempo manco De rendese conto Che squadra allena E allora Simo Che cosa faresti te? Io non farei Quattro, cinque, sei pause Durante l'anno Io farei due pause Due slot grandi Che occuperebbero circa un mese Tu ti giochi tutte le partite Che ti devi giocare Divise in due slot Che siano Qualificazione per i mondiali O qualificazione per gli europei O Nations League Ma in quella parentesi Ti giochi tutte le partite Che devi giocarti Facciamo un esempio Allora se guardate qua L'Italia in questa pausa Delle nazionali Ha giocato contro Da qui Macedonia Ucraina Malta Inghilterra Macedonia di nuovo E Ucraina Queste due ultime deve farle Sono uno Due Tre Quattro Cinque Sei partite Queste sei partite Tu me le hai divise Tutte E sottolineo Tutte In momenti Diversi Se tu invece Avessi deciso di prendere Un mese Nel quale Avresti giocato sei partite Quindi che so Una al martedì Una al venerdì Una al mercoledì Una al sabato Una al giovedì Una alla domenica E una Al venerdì E una al Mercoledì In un mese In circa Tre settimane e mezzo Avresti chiuso Tutte le qualificazioni A cosa servirebbe Questa cosa? Innanzitutto Per responsabilizzare La nazionale Che Spalletti sceglie I nomi che sta scegliendo E parlo di Spalletti Come tutte le altre nazionali Sia chiaro Sono nomi un po' Campati in aria Cioè nel senso Io non so quanto Bonaventura avrà Altre possibilità Non so quanto Colpani ancora Verrà messo Davanti a Delle occasioni C'è una piccola possibilità Con la Macedonia Un'altra con l'Ucraina Ma se tu ti fai Un gruppo di 30 persone E parti Per fare parti Vabbè giochi le partite Per fare la spedizione Di 6 gare In un mese Tu c'hai un mese di nazionali E a noi ci fai anche appassionare Dai importanza A quello che stai facendo E soprattutto Non rompi i coglioni Ogni 30 secondi Con queste pause Delle nazionali inutili La Coppa Italia Avete capito bene La Coppa Italia Ma voi ci pensate mai Che abbiamo chiesto Per 10 anni Un format simile All'FA Cup Quindi dove partissero Le squadre Contro quelle Di terza categoria Cioè volevamo in sostanza Vedere ZAV Jackson Affrontare il Napoli E invece questi Ci hanno tolto addirittura Le squadre di serie C Cioè hanno tenuto La Coppa Italia Una competizione Per pochi eletti Togliendoci poi anche Il sogno Alessandria Cremonese Per farvi capire Follia E follia anche perché La Coppa Italia Oggi è questa roba qua Roma Cremonese Lazio Genoa Juve Salernitana Napoli Frosinone Inter Bologna Fiorentina Parma Atalanta Sassuolo Milan Cagliari Si va avanti a tabellone E poi ci si gioca la finale Una noia mortale E lo è da anni Dai ditemi la verità No Facciamo conto che voi Tifiate l'Inter E si gioca Atalanta Sassuolo Che oh È un ottavo di finale O Fiorentina Parma O Roma Cremonese O Lazio Genoa Ma forse anche le altre eh Vi chiama Un vostro amico E vi dice Se fiamo una birra stasera Quanti di voi rispondono No Devo rimanere a casa A vedermi Lazio Genoa Dai dite la verità Aspetto Qualcuno di voi lo farebbe? Il problema È che questa Coppa Italia Non ha alcuna pill Innanzitutto perché vincerla Non porta Oltre che la Coppa E una supercoppa italiana Che ormai sta sempre più Perdendo di valore A nessun beneficio Né a livello economico Né a livello europeo Ok La qualificazione in Europa League Ma statisticamente Su 20 volte 17-18 Chi vince la Coppa Italia Entra nei primi sei posti Quindi gli interessa Relativamente poco Per non dire zero Io allora che cosa farei? Cercherei di Allungare Il sistema Cioè di scegliere Un sistema lungo Più difficile Però lungo solamente Ad organizzazione Senza dover andare A gravare sul numero di partite Vi faccio capire Che cosa intendo Siamo qui Roma Cremonese Lazio Genoa Juve Salernitana Napoli Frosinone E quindi Inter Bologna Fiorentina Parma Atalanta Sassuolo Milan Cagliari Perfetto Ho diviso Le 16 squadre In 4 urne Ovviamente Le 16 squadre Ci sono arrivate Mediante dei turni Di qualificazione Le prime 8 Partono direttamente Da questo turno qua Mentre le altre Fanno il turno di qualificazione Esattamente come è accaduto Poi vengono divise In fasce Le fasce Le fasce Chiaramente Sono in relazione All'ultimo anno Di serie A E quindi come vedete Le teste di serie Sono Napoli Inter Mila Nel Lazio In ordine Discretamente sparso Seconda fascia Con Atalanta Roma Fiorentina Juventus Terza urna Perché ho scritto urna Vabbè Con Sassuolo Bologna Salernitana E Genoa Che sarebbero Ho cambiato la scritta In fascia Perché mi stava infastidendo Comunque sarebbero Sassuolo Bologna Salernitana Tre squadre Che si sono salvate E il Genoa Quella che ha fatto meglio In B La Cremonese Che è in B Il Cagliari Il Frosinone Che sono in A Ma sono arrivate sotto Al Genoa Lo scorso anno Se non vado errato Ecco Dividerei in queste Quattro fasce Parte il sorteggio Quattro gironi da quattro Facciamo sorteggiare Il calendario a caso Allora Il computer ha lavorato Ci ho messo ore Ma proprio ore E in sostanza Ha partorito Girone A Napoli Juve Salernitana Cremonese Girone B Inter Atalanta Genoa Cagliari Girone C Milan Roma Sassuolo Frosinone Girone D Lazio Fiorentina Bologna Parma Ecco Questa competizione qua Si farebbe quindi Con quattro gironi Ma le partite sarebbero Di sola andata Questo che cosa vuol dire Che avremo Molte più partite in realtà Però a livello numerico Ogni squadra Ne giocherebbe Appena tre Passerebbero le prime due Di ogni girone Quindi ipotizziamo Napoli Juve Inter Atalanta Milan Roma E Lazio Fiorentina Giusto per Un'idea Anche se poi Con girone di sola andata Non succede Si giocherebbero Quarti di finale Secchi Semifinale Secca E finalissima Secca Quindi vuol dire Tre più tre Sei Quante partite gioca oggi Una squadra che vince La Coppa Italia Ottavi Quarti Semi Semi Finale Cinque Questo sistema Che vedrebbe molte più partite di Coppa Italia E renderla molto più intrigante Permetterebbe Di farla diventare Molto più competitiva Aggiungendo una sola partita per squadra Non duecento Ma comunque tu Dovendo giocare Tre partite Minimo Arrivando ai gironi Sei spronato a far bene Mentre alcune formazioni In Coppa Italia Mettono la terza squadra Anche squadre piccole Perché dicono Prima esco Meglio è Invece così facendo Giochi Prendi soldi Visibilità E giochi più partite Cioè stiamo aumentando Il numero minimo Di partite Non tanto il numero massimo E a questo punto Voi direte Ok SIC Figo Cioè sicuramente è più figo No? Perché in un anno Magari in questo girone qua La Cremonese affronta Salernitana Juve e Napoli E poi se fa il colpaccio Va anche avanti Ma perché una squadra Come la Juve Come il Napoli Come l'Inter Come il Milan Dovrebbe mettere la prima squadra Perché essendo un sistema Più complesso Io chiederai il permesso Alla UEFA E chi vince Lo mando in Champions League Quindi in questa mia Diciamo idea di Coppa Italia La quarta Non va in Champions Ma ci va chi vince La Coppa Italia Insieme alla prima La seconda E alla terza Per me sarebbe molto figo Vi dico la verità Chiaramente adesso Andando avanti Quando ci saranno altre cose Tipo quando parlerò Di Champions League Eccetera Quest'idea viene accantonata Cioè ogni volta Apriamo un'idea Io apro il portone Vi svaro l'idea Richiudo il portone E torna tutta la normalità Quindi questo mio punto Poi non va A condizionare altri punti Non sto cambiando Il calcio in toto Ma sto dando delle idee Comunque questa è una cosa Che farei Perché sennò mi sarebbe Veramente figo E io la vedrei Invece adesso La Coppa Italia In Saga Che più nessuno Praticamente Il pallone d'oro Quello che in sostanza Tutti l'anni vince Messi E non sto dicendo Che sia sbagliato Cioè oddio In parte Però diciamo che Il sistema del pallone d'oro Lo ha reso Perdonate il francese La merda che è oggi E se sempre meno gente Si guarda la cerimonia Del pallone d'oro Un motivo ci sarà Prendiamo ad esempio L'albo d'oro Del pallone d'oro Messi Benzema Messi Messi Modric Ronaldo Ronaldo Messi Ronaldo Ronaldo Messi 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 Ronaldo Dal 2008 Messi e Ronaldo Hanno Ed è poco dire Monopolizzato il pallone d'oro Che da una parte Per come il pallone d'oro Viene dato È giusto È giusto Non sono qui a dirvi Cambiate qualcosa Se non il modo di dare il pallone d'oro Io mi dispiace ma Non posso guardare al 2016 Che è l'anno in cui Ronaldo vince il pallone d'oro Con pieno merito Avendo trascinato il Portogallo Alla vittoria dell'europeo E avendo vinto anche la Champions Con il Real E non trovare in top 3 Nessun calciatore Dell'Eister Che ha vinto la Premier League Da protagonista E ha vinto la Premier League Da squadra che Se si salvava era un miracolo Ok Settimo Marez Ottavo Vardi La cosa che però non mi torna è È mai possibile Che io Guardando il 2016 E guardando l'albo d'oro Non mi rendo conto Che questo è l'anno Dell'Eister Vogliamo dire anche Che non avremmo mai avuto Giorginio Terzo Se non avesse vinto La Champions League Con il Chelsea E posso mai Guardare il 2021 Senza rendermi conto Che questo è l'anno dell'Italia Vi domando Posso mai guardare il 2004 Senza rendermi conto Che questo è l'anno Della Grecia Non dico di farlo vincere A un greco Ma in top 3 Ce dovrebbe sta Qua nel 2014 Ragazzi Può non vincerlo Manuel Neuer E nel 2010 Posso non rendermi conto Che questo è l'anno Dell'Inter Che vince tutto Che fa il triplete Ecco Per me questo È un grande vincolo Poi sia chiaro eh Guardando il 2023 Io mi rendo conto Che questo è l'anno In cui Messi vince Il Mondiale Holland vince tutto E Mbappé diventa grande Che poi grande Oddio C'era già diventato Però questa cosa A mio avviso È sempre un po' mancata Il fatto di non avere Riferimenti Guardando gli anni Su cosa è successo Quegli anni Limita tanto il pallone d'oro Che nella mia ottica Prenderebbe molto più valore Se fosse dato A chi è più rappresentativo In quella stagione E non a chi è il più forte Del mondo Perché se nasce un talento Ed è il più forte Della storia E gioca per 20 anni Per 20 anni Deve vincere il pallone d'oro A meno che non fa Proprio schifissimo Che poi no C'è una cosa Che proprio non capisco Vi chiedo di nuovo Di alzare le mani Quanti di voi Hanno guardato La cerimonia del pallone d'oro Vi dico che c'era In concomitanza Lazio Fiorentina E secondo me Era più intrigante Lazio Fiorentina 0-0 per 90 minuti Con Immobile Che la sblocca Tutto recuperatevelo Però in soldoni Il tutto si richiude qua Il 17 di ottobre Esce praticamente Dappertutto Questa notizia Leo Messi Vincerà per l'ottava volta Il pallone d'oro L'indiscrezione Arriva dalla Spagna La notizia L'ha annunciata Un quotidiano catalano Che contestualmente Ha scritto Che Aitana Bonmaty Vincerà quello femminile E come prevedibile Messi vince Il pallone d'oro Maschile E Aitana Bonmaty Vince quello femminile Allora io mi domando E dico Porca puttana Quando l'ha vinto Benzema L'abbiamo saputo prima Quando l'ha vinto Modric L'abbiamo saputo prima Quando l'aveva vinto Prima Messi L'avevamo saputo prima Quando l'aveva vinto Cristiano Ronaldo L'avevamo saputo prima Ma vi pesa Veramente così tanto Non svelare A nessuno Ma proprio A nessuno Come se fosse Il cazzo Di conclave Per annunciare Il papa Chi ha vinto Il pallone d'oro Nemmeno ai calciatori stessi Ti comunico Che sei in top 10 E per questo Ti devi presentare Alla cerimonia Non ti puoi presentare Sarai escluso Dai top 10 E anche se ti meritavi Di vincerlo Non parteciperai Ti presenti Se per me Sei degno Di vincere il pallone d'oro Lo scoprirai Durante la serata Scoprirai la classifica E farai trasparire Anche le tue emozioni Perché è bello Vedere un calciatore Che si commuove Per aver vinto il pallone d'oro E che non se l'aspetta Il problema è che I calciatori Lo dicono prima Perché devono Prepararsi Ma prepararsi di cosa? Follia Follia Vi dico la verità Così facendoci avete Ammazzato la passione Quindi La votazione Il fatto che vadano a votare Dei giornalisti La trovo una grande cazzata Perché tu in quanto giornalista Puoi essere di parte Vi è capitato di vedere questo schema? Praticamente ci sono tutti i voti Di tutti i giornalisti Di ogni nazione Per il pallone d'oro Tipo Il Sudafrica ha votato Messi, Holland, Mbappé De Bruyne, Osimène Che ci può anche stare Ma si nota il tipico stampo Africano Per la presenza di Osimène E non è un caso Se poi in Camerun Hanno votato Onana come quarto In Sud Corea Hanno votato Kim come quinto In Egitto Hanno votato Salah come terzo In Armenia Che non è la Georgia Però dai Hanno votato Cavarascalia come quinto Il Costa d'Avorio Addirittura Ha votato Osimène secondo La Croazia Modric Quinto E sono tutti i calciatori Che finiscono in quelle posizioni Secondo me senza apparente motivo La Germania Che mette quinto Gundogan L'Inghilterra Che piazza quinto Bellingham In una stagione Dove ancora doveva essere Questo Bellingham Il Belgio Con De Bruyne terzo Che vabbè Questo ci può anche stare E poi due cose clamorose L'Argentina Che mette Messi primo Ok Giuliano Alvarez Secondo Emiliano Martinez Quarto Lisandro Martinez Quinto Quattro Argentini Su cinque Nella top 5 Non c'è Holland Addirittura la Svizzera Non so per quale ragione Va bene mette Holland Primo Ma poi mette Vinicius Bonu Bernardo Silva E Saka Non mettendo in top 5 Né Messi Né Mbappé Come se volesse far recuperare Più punti possibili A Erling Brautoland E dite quello che vi pare Ma io questa cosa qui La vedo come andare contro La propria professionalità E allora Sik Diccelo te Chi lo deve decidere il pallone d'oro Tutti i CT Tutti i commissari tecnici Perché? Perché hanno una responsabilità E hanno una figura da difendere Se il CT della Svezia Della Svizzera Mette fuori dalla top 5 Messi E mette fuori dalla top 5 Mbappé Me lo deve spiegare Perché lo ha fatto Al giornalista A Christoph Scherf Che è quello che ha votato Di radio televisione Svizzera Mai nessuno dirà nulla Se Lionel Scaloni Mi mette quattro su cinque Dell'Argentina Me lo deve spiegare Perché non mette Holland E non mette Mbappé Anzi Mbappé lo mette A Enrique Kike Wolf Di ASPN Mai nessuno chiederà nulla E aggiungo anche un'altra cosa Che farei Io metterei che Nella classifica Tu non puoi votare I giocatori della tua nazione Perché così Sono gli altri Che devono dare il voto Sono gli altri Che devono riconoscere i meriti E non te stesso Perché è facile Fare una classifica Per far vincere Messi Che poi avrebbe vinto lo stesso Nella quale però Oltre Messi Hai penalizzato Holland Non inserendolo E hai messo un bappé Dietro a Julian Alvarez E soprattutto hai messo Quinto Martinez Lisandro E quarto è il dibu Inserire in Italia L'obbligo Degli Anzi Delle squadre Under Questa non è Da cambiare il calcio Questa è da cambiare Il nostro calcio Ma ci rendiamo conto Che noi ci lamentiamo Di come sta andando La nazionale Da dieci anni E nessuno fa niente Per migliorare Questa cosa qui Al momento due squadre Due Hanno l'Under 23 Una è la Juventus Che l'ha fatta diversi anni fa Ma la Juventus Sotto questo punto di vista È sempre avanti a tutti E l'altra È l'Atalanta Che l'ha appena fatta Per me il fatto che Milan Inter Roma Lazio Napoli Non abbiano Una seconda squadra Che giochi in Serie C È deleterio Per me Avere delle squadre Di giovani Che si confrontano Con un panorama Più importante Del campionato Primavera È alla base Della crescita I talenti Dell'Under 23 Tipo De Winter Zanimacchia Filippo Ranocchia Castanos Frabotta Radu Dragucin Vogliacco Manolo Portanova Bruno Ori Che sta facendo Le bughe in Serie B Col Palermo Nicolussi Caviglia Sono tutti calciatori Usciti dall'Under 23 Della Juve E poi Esplosi da qualche Altra parte Senza calcolare I non citati Barrenecea Fagioli Hilling Junior Miretti Sulle Ma di che stiamo parlando Il VAR Maledetto VAR Mamma mia Il VAR Tanto utile Quanto utilizzato Appena ed esegugio Cazzo di cane Insomma Dai non venitemi a dire Che usiamo il VAR Come giusto che sia Ci sono polemiche Ogni 30 secondi Addirittura mi sembra Che da quando Sia stato inserito il VAR Ora non dico Che le cose vadano peggio Perché secondo me Vanno molto meglio Semplicemente Mi sembra che si Pare siano aumentate Le polemiche E questo secondo me Accade perché Perché sostanzialmente Prima non avevi L'ansia Di dover dire Però c'era un fuorigioco Minuscolo E uno ti rispondeva Vabbè frate ma come faceva L'arbitro a vederlo Oggi tutto si può vedere E quindi ogni errore Viene visto come un errore Grossolano E io non sono uno di quelli Che dice Togliete il VAR Sono uno di quelli Che dice Lavorate sul VAR E la tecnologia in campo C'ha una marea E sottolineo Una marea Di falle Emma quello Non può vederlo Emma così Non può essere chiamato Al VAR Emma l'arbitro Non poteva andare Al VAR Emma il gioco Non si doveva interrompere Perché sono stati mesi Dei paletti Un po' per difendere Gli arbitri Che rompevano i coglioni Per paura che la loro figura Fosse oscurata Ma continuano a prendere Solo insulti E un po' perché C'era la paura Di fare il grande salto Fatto sta Che le polemiche Sembra siano aumentate Il problema maggiore Secondo me È che noi Continuiamo a non essere Padroni Del nostro destino Se avessimo noi In mano La possibilità Di usare il VAR In piccola parte Non parlo nella totalità Murigno Parlo del mio allenatore Si lamenterebbe ancora Dell'arbitraggio Cioè la risposta sarebbe Scusami Potevi dire di andarlo A far vedere Non lo hai detto Di che cosa li stai lamentando Io il VAR Lo lascerei così com'è Ma aggiungerei una cosa Nella pallavolo C'è questa cosa Che può essere Anche definita La vita È il video check Cioè il sistema Di monitoraggio Delle linee perimentali Del campo da gioco Studiato Dalla liga Pallavolo serie A Ci sono 8 telecamere Che sorvolano Sorvegliano in realtà Le righe del terreno di gioco È possibile valutare L'impatto del palone Con il campo Determinando Il dentro o fuori Come funziona il VAR Nella pallavolo Il VAR e la VAR Informano L'arbitro riguarda Una decisione da rivedere Il VAR e la VAR Rivedono le immagini video Spiegando all'arbitro Cosa è successo L'arbitro per decidere Potrà rivedere il video A bordo campo Ma guarda un po' Esattamente come nel calcio Perché a questo punto Entriamo nel discorso Del video check Il concetto di video check Nella pallavolo È molto simile A quello dell'occhio di Falco Nel tennis Adoperato dal 2012 Il replay può essere chiamato Da uno dei due capitani In campo Entro 7 secondi Dal termine dell'azione Ciascuna squadra Può chiederlo massimo Due volte per ogni set Come nel tennis Non si perde un bonus Se si ha ragione Puoi farlo in ogni caso Quindi qui dicono Palla dentro Palla fuori Invasione Tocca a muro Pestata della seconda linea O della linea di battute Eccetera A richiesta avvenuta Il secondo arbitro Analizzerà il video replay Sullo schermo del video check E in seguito Informerà il primo arbitro Le immagini vengono Trasmesse in contemporanea Su un eventuale schermo Ulteriore presente All'interno del palazzetto Aumentando notevolmente L'effetto scenico in campo Poiché i tifosi e i giocatori Conoscono il verdetto Nello stesso momento Ma al di là di questo Piccolo ultimo concetto La cosa fondamentale È che i capitani Entro 7 secondi Possono dire Voglio andare a rivederlo E hanno due volte A sé Ed è quello che farei io Si gioca a Milan-Inter Il Milan ha due chiamate VAR E l'Inter ha due chiamate VAR Per tempo Se si ha ragione La chiamata VAR non si brucia Se si ha torto Si brucia la chiamata VAR Se tu chiami due volte il VAR E si brucia entrambe le volte La chiamata VAR Perché hai sbagliato Allora poi non puoi più chiederlo E ti attacchi Ma sei padrone del tuo destino La gestione delle coppe europee Madre del Dio ragazzi Dai diciamolo chiaramente L'Europa League E la Conference League In questo momento storico Fanno cagare C'è qualcuno di voi che resta a casa il giovedì A guardarsi le competizioni Secondaria e terziaria Che non tifano le squadre Che giocano quelle competizioni So che mi state per dire No E che c'è di strano C'è di strano che La Champions League Me la guardo Anche se tifo la Roma Ora C'è il nuovo format della Champions League Che è un grande mischione Con 36 squadre Un girone unico Eccetera eccetera Però visto che quest'anno Vedo che L'interesse sulla Champions È pari al mio interesse Non lo so Sull'ho Sul ghiaccio Sono molto curioso di vedere Se il cambiamento Porterà ad un maggiore interesse E se sarà più intrigante Quindi su questo Mi faccio i cazzacci miei Aspettiamo e vediamo Almeno hanno avuto voglia Di cambiare qualcosa Il problema Sono Europa League E Conference League E il problema maggiore È che sono Poco poco competitive Prendiamo per esempio I gironi di Europa League West Ham Friburgo Olimpio Cosbacca Topola Marsiglia Brighton IK Adene Ajax Questo è figo Betis Rangers Sparta Pragaris Limassol Atalanta Sporting Lisbon Sturm Graz Rakov Liverpool Tolosa Union Lask Ren Villarreal Panatinecos Maccabi Slavia Praga Roma Servette Sheriff Leverkusen Carabag Molde Aken C'è veramente qualcuno Che è interessato a questa roba In questo momento È chiaro E poi quando si inizia ad arrivare Ai quarti Semifinale Fomenta tutto Ma oggi C'è qualcuno Che frega qualcosa di questa storia Per non parlare poi Della Conference League Lille Slovan Bratislava Ki Olimpik Ljubljana Ghent Tel Aviv Zoria Breidablik Victoria Pilsen Astana Balcani Dinamo Zagabria Club Rouge Bodoglimt Lugano Besiktas Legia Varzavia Stonvilla Zerchimostar AZ Fiorentina Ferencvaroš Genk Kukariki La Kukariki La Kukariki Pa 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 Aok Eintracht Aberdeen HJK Fenerbahce Nordjylland Ludo Goretz Spartak Ternava Fanno oggettivamente Cagare Oggettivamente Innanzitutto Io terrei che chi vince L'Europa League Va a fare la Champions Da testa di serie Ma aggiungerei che chi vince La Conference Va a fare la Champions Almeno che non è già qualificata Da quarta urna Però l'occasione Gliela darei Innanzitutto per Dare un po' più di rilievo Alla Conference League Poi il problema Sono i soldi Girano un botto di soldi In Champions E molti pochi Tra Europa e Conference League Cioè in sostanza Andare agli ottavi di Champions Vale dieci volte Vincere tutte le partite Di Conference League Compresa la finale Il che rende Poco sensato Fare un percorso Dove metti sempre i titolari A questo punto Due piccolezze Che manco sono troppo piccole La prima è quella di Aggiungere più squadre Dei top campionati europei So che voi direte Vabbè Sik Ma queste competizioni L'hanno fatte per i club piccoli Ma allora ragazzi Non ci cagate il cazzo Se poi non se lo guarda nessuno Cioè io non posso Guardarvi una competizione Nella quale Al suo interno Nel girone H Ci sono Ludo Goretz Spartak Ternava E Norgelland O ancora peggio Slovan Bratislava Chi E Olimpik Ljubljana Cioè non posso Per questo vi dico Aumenterei a tre I posti Dei top 5 Campionati europei Anche perché In quella parte là Ci sono tante squadre Che alcune Hanno fallito E alcune sono arrivate lì Non qualificandosi In nessuna competizione Altre Sono molto interessanti E vorrebbero Accumulare un po' Di esperienza europea Per farvi capire Lo scorso anno In Serie A Ci sarebbero andate Fiorentina Juventus E Bologna Beh In Premier Liga Stone Villa Tottenham E Brentford In Liga Osasuna Athletic Bilbao E Mallorca In Bundesliga Eintracht Di Francoforte Fosburg E Mainz E in Francia Lille Monaco E Lione Posso permettermi Di dire Che sarebbe diventata Una competizione Molto più interessante E una cosa Che mi snerva È che Mourinho Non se lo caga Mai nessuno E l'unica volta Che nessuno Se lo doveva cagare L'hanno cagato Qualche tempo fa Ha detto Non ha senso Che le squadre di Champions Retrocedano in Europa League E quelle di Europa League Retrocedano in Conference League Quando esci da una competizione È finito E per me Questa è una gran cagata Le squadre che lo scorzono Sono retrocesse Dalla Champions League Giocando l'Europa League Sono Barcellona Juve Sporting Shakhtar Ajax Leverkusen Siviglia E Salisburgo Se guardate Le uniche squadre Che vanno avanti Passando il turno Sono Roma Union Berlin E Manchester United E se guardi Gli ottavi di finale Il Siviglia Era sceso dalla Champions La Juve Idem Il Leverkusen Idem E lo Sporting Lisbona Idem Addirittura Delle semifinali Leverkusen Siviglia E Juve Sono tutte scese Dalla Champions E voi direte È giusto Che vengano tolte No raga Cioè avremmo visto Una semifinale Probabilmente guardando Le altre Roma Union San Giluà E Feyenoord Bo Manchester United Comunque il livello Sarebbe drasticamente Più basso Per non parlare Poi della Conference League Nonostante per molti di voi Sia sbagliato E nonostante le terze Dell'Europa League Non è che siano Granché Il fatto di aver inserito Queste squadre Ha provato a dare Un po' di linfa A questa competizione Sono scese Karabag Trabzospor Lazio Bodo Klimt Braga IK All'Arnaca Sheriff Tiraspol E Ludo Goretz E ora Al netto del fatto Che le uniche squadre Passate poi Al turno successivo Siano Lazio IK All'Arnaca E Sheriff Tiraspol Con la Lazio Uscita con la Z L'IK Uscito con il West Ham E lo Sheriff Uscito con il Nizza E quindi Con tutte le squadre Andate avanti Derivanti Direttamente Dalla Conference League Ciò non toglie Che poteva dare Un po' di linfa in più Cioè vi faccio un esempio Se oggi finisse l'Europa League Scenderebbero Olimpiakos IK Atene Ma secondo me L'Ajax Sparta Praga Sturm Graz Union San Gilloa Panathinaikos Servette Molde E basta Cioè squadre Non spaziali Sia chiaro Però che comunque Avrebbero dato linfa E infatti aggiungo Un'altra cosa Che io non avrei tolto Le retrocessioni Le avrei raddoppiate Cioè io avrei tenuto in gioco Anche le quarte Della Champions League Ma vi spiego come Visto che le terze Dell'Europa League Vanno in Conference Le quarte della Champions Le avrei mandate in Conference Quindi prima e seconda Agli ottavi Terza in Europa League Quarta in Conference League E io vi assicuro Che se andiamo a dare un'occhiata A quelle che oggi Scenderebbero Dalla Champions Alla Conference Come quarte Avremo una conference Con Manchester United Siviglia Union Berlin Benfica Celtic Newcastle Young Boys E Anversa Qualcuno vuole dire Che figata In questo caso Tra l'altro Andare a mandare La vincitrice della Conference In Champions League Avrebbe anche senso E poi mi gradirei Molto di più la Conference La durata Del calciomercato E che vor di Oggi Il calciomercato Apre il primo luglio Del 2023 Passato E chiude il primo settembre Del 2023 Passato Ha senso? Per me no Specie in un periodo Storico In cui alla fine della fiera A giugno Già cominci a comprare E la serie A è bella che chiusa Quindi La mia domanda è Ma perché non fare Che il mercato Si apre Il primo di giugno E si chiude il 30 Di luglio Così facendo Tu andresti a fare Una seconda parte Di preparazione A squadra chiusa E quando si apre il campionato Il calciomercato è chiuso Per me sarebbe una cosa Molto intelligente Aggiungo anche un'altra cosa Io farei lo stesso Anche per il mercato Di gennaio Cioè per me Tu stai un mese fermo Tre settimane ferme Quelle tre settimane Il mercato è aperto Poi chiude Sicca ma che te frega Dirà qualcuno Ve lo spiego subito La prima giornata di campionato Mette di fronte Poi in realtà Ha già messo di fronte Roma-Salernitana Facciamo così Che si gioca il 20 di agosto Ora Roma-Salernitana È finita davvero 2-2 In un'ipotetica situazione In cui la Roma Appunto finisce La partita 2-2 Con la Salernitana Con doppietta di Bulaiedia La Roma perde due punti E ci può stare Il 24-25 di agosto Bulaiedia Chiede ufficialmente La cessione E parte Parte Direzione Torino Ebbene Quinta giornata 24 di settembre La Roma affronta il Torino 1-1 Segna Bulaiedia Al ritorno La Roma riaffronta il Torino E ieri segna Bulaiedia Ora La Roma ha affrontato 3 volte Bulaiedia Soprattutto all'andata Con due maglie diverse È corretto Nei confronti di un Di una Roma Esempio L'esempio inventato Che si gioca il piazzamento Champions Magari con la Lazio L'Atalanta Non lo so Perché le altre 4 Sono tutte più forti È corretto Che abbia 2 volte Lo svantaggio di affrontare Bulaiedia Con magari la Salernitana Che dopo la cessione Del calciatore africano Decide di puntare Su un attaccante Che fa 2 gol in tutto l'anno E le altre squadre L'affrontano con quella punta È corretto Per me no Ma zero proprio Calcio Mercato Minima spesa Che cosa voglio dire Preparatevi perché Sto per dire una cosa molto forte Il problema vero Del calcio mercato E del calcio italiano Soprattutto Sono le piccole Che fanno moneyball Ma poi non spendono Cioè il Milan È una grande Fa moneyball Fa soldi da tonali Ma poi spende Buona parte dei soldi Per comprare determinati calciatori Che poi Gli permetteranno di fare altri soldi Ok C'è chi però fa moneyball A ribasso Gradirei prendere Come esempio il Verona Che in questa stagione Ha speso 2 milioni e 8 per Callon 2 milioni e 7 per Duda Io parlo di quelli messi a bilancio Ma magari sono stati presi Gli anni precedenti 1 milione per Braff E poi hanno preso a zero Saponara Ambula Qua Manuel Cruz E in prestito Serdar Federico Bonazzoli Foloruncio Cucua Cucua Ciacciua Come cazzo si chiama Suslov E Charles Totale speso 6 milioni e mezzo di euro Hanno però incassato 15 milioni e 7 da Illich 12 milioni da Simeone 7.96 da Cancellieri 7.5 da Caprari 4 da Sulemana 2.8 da Tamese Poi hanno dato via Zero Veloso e Sanè E poi anche Rezzos E Pandur Ma non si sa Totale incassato 49,96 milioni di euro Qua vediamo entrate spese Il Verona è in positivo Di 43,46 milioni di euro È una cosa bella? Per me no Cioè è oggettivo come L'esser in positivo È una cosa bella Ma un conto è Essere sempre in positivo Un conto è Svendere la tua squadra E poi storcere il naso Se si retrocede Ora è un caso E non so nemmeno Quando vedrete questo video Ma il Verona è in zona retrocessione E anche dovesse vincere È che ne uscirebbe così facilmente E guardate il dato E guardate quante sconfitte di fila Ha accumulato Semplicemente perché Non è una squadra forte Che ha appoggiato Ciò che l'anno scorso Aveva costruito Su basi solide Che poi l'anno scorso Era già deteriorata Dall'anno prima Perché mi preoccupa? Mi preoccupa perché Innanzitutto questo Non fa circolare denaro E poi perché C'è sempre più differenza Tra le grandi della Serie A E le medie e piccole E non è una colpa Delle grandi che mangiano Le medio e piccole È colpa delle medio e piccole Che si accontentano Di fare un sacco di soldi Senza prendersi Il rischio di spendere Mi ricordo che Qualcuno parlava Del divario enorme Tra Serie B e Serie A Diceva quando le squadre Vengono su La maggior parte delle volte Scendono giù Ma la colpa di chi è? Nella Serie B 2015-2016 Ricordo? Il Pescara arrivò quarto Ma riuscì a salire Tramite i playoff Quell'anno a Pescara C'era un giocatore Clamoroso Che non solo fu il più presente Con 40 partita all'attivo Ma fu anche Il miglior marcatore Della B Con 27 gol Guardate la statistica Il secondo fu Cacia Che ne fece 17 Parimedio tra l'altro Con Caputo Che al tempo Giocava all'Entella Però torniamo a noi Quel Pescara Era soprattutto La Padula C'era anche Caprari Però era soprattutto La Padula Ora quel Pescara lì È vero che prende Biraghi a 5 milioni Dall'Inter E Valerio Verre A 4 milioni Dall'Udinese E Fiorillo A 2 milioni Dalla Juve Prende anche Benali Ma cede La Padula a 9 e mezzo Caprari a 8 e 25 Verre a 4.1 E a fine anno Manco a dirvelo Arrivano ultimi Con 18 punti 18 Cioè in sostanza Fanno 16 punti in meno Della salvezza Erano retrocessi Con 7-8 giornate D'anticipo Ci hanno fatto 8 punti in meno Della penultima Sulla panchina Si alternano Oddo e Zeman Il giocatore che Insomma Si vede di più in campo È Memushai Mentre il miglior marcatore È Caprari Che ne fa 9 Perché sì Caprari era tornato In prestito al Pescara Nonostante l'avessero Già ceduto all'Inter Questo per dirvi cosa Che se ci fosse un obbligo Tipo Tu incassi 30 milioni Ne devi spendere Almeno l'80% Anche le piccole squadre Si spronerebbero A dover investire soldi Per cercare di rimanere in alto Perché ne sarebbero obbligate Non puoi spendere di meno Puoi spendere Dall'80 al 100% Di quello che incassi In trasferimenti Ma non di meno E per ultimo Allenatori Esonerati E che vordì Direte voi Ci sta è lecito La Serie A È un mondo strano E il fatto che sia un mondo strano Lo testimonia Ciò che non è strano Cioè la Premier League Che tutti lo diamo E sarebbe molto semplice Da copiare Ma non lo facciamo mai Torniamo come al solito Alla scorsa stagione 2022-2023 In Premier League L'allenatore del Brighton Prima che arrivasse De Zerbio Lo portasse In vetta al mondo È Graham Potter Graham Potter Allena dalla prima Alla sesta giornata Poi arriva la chiamata Del Chelsea Eccolo qua Dalla settima Alla ventottesima E decide di andare Perché? Perché è un'opportunità Da non farsi mancare Dopo l'esonero Di Thomas Tuchel Ma questa è una scelta Succede anche il contrario All'Everton Nella stagione Inizia Frank Lampard Fa dalla prima Alla ventunesima giornata Poi decidono di disonerarlo Per puntare Sean Dick E si fa dalla ventiduesima Alla trentottesima Ebbene Lampard Che era rimasto a casa Riceve una chiamata Dal Chelsea Dalla trentesima Alla trentottesima Per fare il traghettatore Accetta E porta il Chelsea A fine stagione Secondo voi questo In Italia si può fare? Lo dico io No Perché in Italia C'è una regola Di merda Che dice sostanzialmente Che se tu hai allenato Il Bologna Per una partita anche Non puoi allenare Nessun'altra squadra Di Serie A In questo campionato Se finisce il campionato Puoi rimetterti in gioco Se vuoi andare in Serie B Lo puoi fare Se vuoi andare in Premier League In Bundesliga In Liga In Ligan Lo puoi fare Ma in Serie A No E voi direte Perché? Non lo so Ma questo è il motivo per cui Dopo che è stato esonerato Alvini Alla Cremonese Non l'abbiamo più visto in giro Dopo l'esonero di Nicola Nicola non ha trovato più una panchina Gian Paolo idem Gotti uguale Ciòffi lo stesso Pensate che Il duo Bocchetti Zaffaroni Con addirittura Zaffaroni che diventa Primo e Bocchetti che dà una mano Se avesse parlato Lo Spezia No? Dicendo Voglio puntare su Bocchetti La risposta sarebbe stata no Perché Bocchetti ha ufficialmente allenato Per 5 partite il Verona Anche se avesse allenato Per solo una partita Tipo Fabrizio Lorieri Allo Spezia Basta Hai finito? Non puoi più allenare Che è un qualcosa di clamoroso Specie perché Come vediamo quest'anno Paolo Zanetti Che ha fatto 4 partite Ha finito la stagione Paolo Sosa Che ne ha fatti 8 Ha finito la stagione Sottile che ne ha fatti 9 Ha finito la stagione E lasciatemi dire Che qualche squadra Di metà bassa classifica Fosse in difficoltà Metto per esempio Il Verona di cui parlavamo prima O magari che ne so Non lo so Fate voi Magari un Cioffi Magari Non un Cioffi Un Sottile Magari un Paolo Sosa Magari un Paolo Zanetti Potrebbero essere golosi Questo è il motivo principale Per cui poi ci stanno Quei tipo Esonero Zanetti E prendere Andrea Zoli Poi risonero Andrea Zoli E prendere Zanetti Poi risonero Zanetti E prendere Andrea Zoli Perché gli allenatori Restano sotto contratto Perché non c'è Un'altra squadra di Serie A Che può prenderli Quindi o si abbassano di categoria O vanno altrove Ed è un problema A per gli allenatori Che devono fare le scelte giuste In modo meticoloso Perché sennò si bruciano 365 giorni della loro vita Sì Continuano a prendere lo stipendio Ma insomma Il lavoro Poi diciamo che Fa un rallentamento importante E secondo poi È un problema per le società Perché se io esonero Zanetti Per prendere Andrea Zoli Chiaramente gli pago lo stipendio Sia Zanetti che Andrea Zoli Ma se domani arriva il Genoa E vuole Zanetti E io lo libero Eh già no no L'Empoli non gli paga più lo stipendio Ma questa cosa non può succedere E per me questa è una follia per tutti Se la Roma domani Vuole esonerare Mourinho Per andare all in Su Vincenzo Italiano Ma perché deve aspettare fine anno? Se la Fiorentina mi dice Guarda c'ho una clausola 40 milioni Me lo prendi? Sì Pam E me lo prendo Qual è il problema? Ci sono tanti problemi Io ve ne ho elencati 10 Ci ho messo tanto Ma ci tenevo a dirvi la mia Voi dovete iniziare a farlo In questo momento Da questo momento Qui sotto nei commenti Ditemi la vostra Su tutti i punti Che abbiamo analizzato Ma soprattutto Venite a darmi altri consigli Altre idee Che magari faremo la parte 2 Più avanti Ovviamente se questo video Sarà di vostro gradimento Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Tantissimi mi piace Buon sceladale E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video